L'Ovale Storico di Montevarchi, sabato 11 maggio, ospiterà la nuova edizione della Festa del Volontariato e della Solidarietà, un'occasione per far conoscere l'attività di ben 55 associazioni che operano attivamente nel tessuto sociale. Nel cuore del Valdarno si unirà alla sesta edizione di Apriamo una Porta sul Mondo, per dar vita ad un'intensa giornata allestita dal Comune in collaborazione con il Forum della Pace e della Cooperazione. È il lavoro, il risultato di un anno di cooperazione, di collaborazione, di scontri anche perché no con le associazioni che partecipano, perché ognuna delle associazioni che ha partecipato ha portato del suo. Io mi auguro davvero che sia una giornata importante, che possa dare una visione ai cittadini di Montevarchi della ricchezza che nel nostro territorio c'è proprio dovuta al fatto di questo volontariato e di questo associazionismo. Emozionante, viva i piani di colori, la manifestazione si aprirà alle 9.30 con una passeggiata promossa dalla CAI per proseguire con eventi, spettacoli e momenti di riflessione tra i gazebo e gli stand allestiti nelle vie e piazze principali. Abbiamo 55 associazioni presenti in piazza, associazioni alcune legate a delle malattie, altre legate alla solidarietà internazionale, altre legate a un lavoro educativo con i ragazzi. Tutte queste associazioni, dalla mattina alle 9.30 fino al dopo cena compreso, esprimeranno se stessi attraverso un'attività. Chi lavora con le scuole alle 11 la mattina farà questa grande flash dance che coinvolgerà oltre 300 ragazzi delle scuole medie o il pomeriggio apriamo una porta sul mondo. Chi lavora con gli anziani farà questa biodanza, il Parkinson presenterà alcune sue attività. È una giornata ricchissima da vivere nel centro storico, soprattutto pensando che una città è fatta di pietre, le associazioni sono le pietre, su cui si costruisce il muro di una città. Sono le pietre vive, se queste pietre vive si mettono insieme, costruiamo un bello edificio. Montevacchio sarà più bella con queste pietre.